Appressatevi a Dio ed Egli si appresserà a voi. Giacomo 4 verso 8. Più ci avviciniamo a Dio, più Egli si rivela a noi. Quando il figlio al prodigo viene a suo padre questi corri per incontrarlo. Quando la colomba errante torna all'arca Noè stende la sua mano per tirarla a sé. Quando la moglie affettuosa cerca la compagnia di suo marito Egli viene a lei su ali d'amore. Vieni dunque caro amico, appressiamoci a Dio che ci attende misericordiosamente e ci viene incontro con il suo amore. Ha mai notato quel passo in Isaia 58 verso 9? Lì il Signore sembra mettersi a disposizione del suo popolo dicendo eccomi, quasi per chiedere cosa hai da dirmi, che cosa posso fare per te. Voglio benedirti. Come possiamo esitare ad accostarci? Dio è vicino per perdonare, consolare, fortificare e liberare. La nostra priorità sia quella di appressarci a Dio. Fatto questo ogni cosa troverà il suo compimento. Se ci accostiamo agli altri questi potrebbero stancarsi di noi e lasciarci, ma se cerchiamo il Signore nessun cambiamento si produrrà nella sua mente. Egli continuerà ad appressarsi a noi in una comunione sempre più piena e più gioiosa. Grazie a tutti.